Ecco dove sono posizionate le casette, ma i gatti per adesso non ci entrano ancora Evidentemente hanno un po' il caldo, sono al riparo, tutto chiuso Eppure c'è un tempaggio, nevita, giove e pica vento Per i gatti di gatti, neanche l'ocche, non ne ha nulla Grazie a tutti Grazie a tutti